o rio il rio rio scontato e vincato guarda come perdiamo un minuto e' la tazza fa'l culo chi è il fiolo il fiolo mi direi di chiamarlo però lo sai che mi sei andato allo stadio oggi sia benessere juventus lazio no se c'è andato primizio serio tra sta tra tra i laziali e giuventini prima riceve le botte laziali e poi gli venti finalmente vai andrea guida vado è l'uomo il giardino tanto perde oggi alazzo 7 sente quello che poi lui ma poi lui non non la vede non c'è non mi piace né la lazio nella juve al di là di quello però dato che ci andava al padre vabbè giustamente ma che vuoi sai che proverei a fare però non so forse un po rischiato mi nascondere da radar e andrei laggiù però non so se c'è seconda però salve no dentro al palazzo no dico davanti al dove stanno idra promessa che sopra elevato fatto apposta guarda stanghello c'è pure armi si sapevano le armi la stanghetta io direi dentro dentro al palazzo e allora mi cittina e allora andiamo eccoci qua eccoci qua eccoci qua t'apetta botta t'apetta oh t'apetta no io beviamoci su ma io ci bevo su dove stai ah e decimicata no c'è stato un piano daniel non abbiamo un piano qua no no non c'è niente qua ci sta l'uscita eccolo 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 ci sta l'uscita lo so sbocano ci sta uscita con la spazia aspettare via quali è rimasto noi due e uno no dai quali è qua oddio però un ricorri un ricorri veramente no dai a quali schiavo ehm fegatene salita no ho sempre il modern mi uccide pure a me sempre gli annusse di merda capra capra che palle modder cazzo sta fammi vedere che rank è quel fame la eh c'è 10 euro invece di comprare le shark card pago un cristiano che ce l'avevo modificata e mi faccio modificare a profilo eh mi metto tutto al massimo no tutto a mille mi metto riesco a trovare giocatori sono tanto la rockstar stupida non si raccolge tanto la rockstar no anche se mi vede con rango 10.000 non fa un cazzo perché perché non non so neanche che inventarmi perché è assurda come cosa guarda ti giuro cioè ma uno vedi che c'ha rango ma anche 600 io sai quanto tempo eh io ci ho messo tanto di quel tempo per arrivare a sto rango 700 più o meno secondo me è impossibile arrivarci ancora non è possibile o perlomeno cioè da quando è uscito poi figuriamoci il rango 1000 neanche i ranghi 8000 8000 abbanna perché no dai non penso che sia moddato no rango 8000 Daniel magari ci avrà nerdato notte e giorno giorno e notte giorno e notte proprio 8000 eh eh c'erano 8000 non lo banno perché quel povero cristo che ha passato i migliori anni della sua vita per vabbè dai troppi riferimenti riferimenti a canzoni ma siete due madonna si è suicidato è perché non abbassa a carellino il coso fa bom 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 e vabbè niente devo guardare gli arti gioca che bello pago il ps plus pago poi vabbè per vedere gli arti gioca pago è bello eh che rango ha quella merda fammi vedere che rango è quella merda sbrigata a carica niente niente non me lo vuole far vedere 1121 sempre questa merda tanto Daniel dai quotato 0,001 te uccide Janus 345 quello là cioè ce li perdi sordi non ce li vinci perché per quanto è scontato ce le scommetti guarda te levano casa eh te levano poco casa ecco ci restano aggancià chissà chi è chissà chi è che ti sta aggancià indizio stai a 90.000 metri da dalla base chissà chi è volevi vai prova a sparare i ragazzi ecco eh occhio al cazzo armato lancia al piccione ci sono andato convinto e questo poi si chiama pure Boba Fett ma te ne vado quello il mio cazzo Boba Fett cacciatore di tagli ma baffanculo che vuol dire cacciatore di tagli a Boba Fett no Boba Fett è un personaggio di Star Wars ah ah campalloni ahah ergio loco eh Sergio eh moglie già neanche eh erito loco eh chi era il ballerino eh guarda quello se premi X così ti vedono di più ecco mo a qual scopo hai fatto ciò no no comunque Daniel mo prendiamo le armi e si diamo subito là dentro eh subito subito come l'ha preso da dentro ah ho capito ah ho capito chi è stato ho capito ho capito ho capito no non me lo può far vedere vero beh dai sbrigateli ucciteli su c'è un gioco c'è un gioco è fatto per giocacce no c'è la televisione già ce l'ho fino a prova contraria eh guarda guarda quello sta fermo così guarda le nuvole appare un gorilla appare guarda Max million 910 questo è il tifoso ma non c'ha le spalle Max Saishi Max Saishi mezzo sciatista ah no è un altro ok ma non c'ha niente questa è vero c'è soltanto il cravattino ah con quella pistoletta fai tutto ah beh no cioè nel senso sei un rango 1027 si proprio mi deve essere che poi il cravattino da davanti si vede da dietro no da dietro no è vero se non sono i bottoni daniel ma la spina torsolo c'è vado colpistono come fa schiuso così il personaggio e così almeno quando l'altri lo vedono dicono oddio questo è modder no non è modder è un ho usato qualche glitch dei vestiti l'ho usato pure io però hanno fissato cioè siete sempre a caccia di glitch comunque ah no è finita dai meno male dai andiamo a trovare quell'altro livello si proprio quello dell'aeroplano rango 71 ovviamente pollice sottoterra io lo metto perché vai metti sto pollice in basso vai se n'è andato quello della il ballerino se n'è andato per il suo